Buongiorno a tutti, autorità presenti, signore e signori, grazie dell'invito e grazie per avermi dato l'occasione di commentare una ricerca così importante, quella del ruolo del capitale umano nel settore ICT, io credo che finalmente è un tema che percorre l'Europa da tanto tempo, che ho affrontato diverse volte in sede comunitaria e la prima volta che viene affrontato in Italia, meglio tardi che mai, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere che si parla dell'ingegnere umanista, perché finalmente forse c'è un posto di lavoro, perché io l'ingegnere tecnico forse mi sono scordato come si fa, almeno quello umanista forse, ma che cosa potrò fare. Comunque, l'altra cosa che voglio dirvi è che io non è che faccio parte della cabina di regia dell'agenda digitale e questo poi lo commenterò, però voglio parlarvi dell'agenda digitale perché in effetti questa sconosciuta agenda digitale fino a qualche mese fa forse è stata proposta ed è venuta fuori finalmente come una delle priorità dell'azione di governo anche grazie alla segnalazione che ha fatto l'autorità qualche mese fa proprio in tema di agenda digitale per l'Italia. Sì, è questa cosa un po' così. Ecco, allora, questa segnalazione è una segnalazione volutamente che focalizza su alcuni temi e non su tutti. L'altra cosa che mi fa piacere dire è che questa segnalazione viene anche un po' come spunto, come un po' sintesi di tante cose che ci siamo dette in incontri che abbiamo fatto qua, in maniera allargata e anche a porte un po' più ristrette quando ci siamo riuniti con alcuni amici che sono qui presenti e abbiamo un po' parlato così del futuro dell'Italia, del futuro dell'ICT. Io credo che questi spunti, proprio in questa alta sede, sono stati gli spunti che poi il Consiglio dell'autorità ha valorizzato, ha un po' sintetizzato in questo documento. Quindi io ringrazio tanti gli amici presenti perché questo è anche un contributo loro. L'agenda digitale, io ho un po' partecipato ai lavori dell'agenda digitale europea, faccio parte del Consiglio dell'agenda digitale europea, vengo chiamato anche nel ruolo del Presidente del gruppo Spettro Radio e quindi conosco un po' il processo europeo. Il processo europeo è un processo estremamente complesso, estremamente diversificato e articolato e quindi come tale io ritengo non adatto all'emergenza italiana. L'emergenza italiana deve focalizzarsi su alcuni temi e non tutti, 101 temi dell'agenda digitale europea, deve focalizzarsi soprattutto sulla crescita. L'altra questione che secondo me è ben detta in questa ricerca e deve ben distinguere l'Italia fra innovazione e trasformazione. In questo momento un pochino di confusione c'è in giro. L'innovazione forse è quella che fa più notizia, quella che è bella, facciamo questo, facciamo quest'altro eccetera. Quello spirito un po' creativo che in questo momento per la verità, e questo ci fa molto piacere, si vede. Però la questione che questo rapporto mette in luce e che mi piace sottolineare, l'aspetto più importante che crea lavoro, crea crescita, è la trasformazione dell'industria tradizionale. E' questo l'obiettivo più importante per l'agenda digitale, è la trasformazione di quello che c'è. Perché è vero che stiamo tutti adesso con l'umicino cercando il nuovo Steve Jobs in Italia e quindi è giusto, lo start up è giusto. E sono cose molto molto importanti. Però parimenti importanti e devo dire più importanti per i più è la trasformazione del sistema produttivo attuale. Ed è su questo poi che un pochino ci siamo concentrati in chiave di priorità di crescita. E la prima questione che ci è balzata agli occhi, e di nuovo, e questa è una cosa che noi esperti del settore da un po' di tempo dicevamo, passava nell'indifferenza più totale, come se fanno, beh vabbè che c'è, non vanno su internet, e vabbè faranno un'altra cosa. Ebbene è balzato agli occhi ormai a tutti che l'Italia ha un analfabetismo digitale che è pari al 49% della popolazione. E poi non darò più numeri perché se no questi numeri poi uno si deprime, voglio dire, cominciamo a pensare fra un anno di cominciare da numeri diciamo positivi. Ecco, ed è l'analfabetismo digitale fra i più alti d'Europa. Ora, questo è un tema, quello dell'analfabetismo digitale, che è di pari importanza a quello che era dell'analfabetismo negli anni 50. Quando l'Italia, uscita dal dopoguerra, si chiese come ricominciare, la prima cosa, la prima priorità che si pose è stata quella dell'alfabetizzazione della popolazione. Ecco, il punto di partenza di qualunque ragionamento sull'agenda digitale è alfabetizzare digitalmente la popolazione italiana. Questo non è, diciamo, una delle cose da fare, è la priorità, perché se non ci sono gli utenti digitali, non ci sono i servizi, non ci sono le aziende, non c'è innovazione prodotto. La questione, e questo l'ha detto molto bene Stefano Parisi nel convegno di confidustria, non è tanto, ed era detto anche nella nostra segnalazione al governo, non è tanto sconvincere gli italiani ad andare su Facebook. Gli italiani su Facebook ci vanno, anzi vi dico che l'Italia è il secondo paese dopo il Brasile per uso orario dei social network. Quindi c'è una passione sfrenata seppur in una parte, diciamo, limitata della popolazione. Il tema è convincere gli italiani che usare internet serve, che per esempio fa evitare le file agli uffici postali, perché i bollettini si possono pagare online. Si può, diciamo, interloquire, non solo, diciamo, consultare il sito della pubblica amministrazione, ma interloquire con la pubblica amministrazione online, si può controllare il conto della banca online. Questo è chiaro per quel 20%, 25% della popolazione italiana che legge i giornali, che ha la diffusa satellitare, che si informa, eccetera, in cui si concentra, diciamo, tutto il carico dell'innovazione del paese, è molto meno chiaro per circa il 70-80% della popolazione, che è una popolazione che sostanzialmente i servizi digitali non li utilizza. Quindi la questione fondamentale dell'alfabetizzazione non è tanto spiegare alle persone cos'è un computer, è spiegare che cosa serve il computer e come gli migliora la qualità della vita. Il primo strumento, lo strumento principe che fu, diciamo, un po' la rivoluzione degli anni 50 è stata indovinata un po' la televisione pubblica, no? Quella ha cominciato il martellamento sulla campagna, diciamo, di alfabetizzazione. E questa cosa qui, in un certo senso, può essere ripetuta. Noi crediamo che il servizio pubblico abbia un ruolo fondamentale nell'alfabetizzazione. Perché? Perché c'è una grande fetta della popolazione italiana, soprattutto i più anziani, che considerano la televisione l'unico mezzo di informazione, fra virgolette, affidabile. Per cui, soprattutto per raggiungere le fasce di popolazione anziane, l'alfabetizzazione via il mezzo televisivo è molto importante. E di nuovo il messaggio da passare è che internet serve. L'altra questione riguarda, ovviamente, l'alfabetizzazione nelle scuole. Il tasso di istruzione informatica dei più piccoli è basso e c'è molto fai da te, comunque a casa. I nostri figli sono nativi digitali. Questo non è il problema. Ma gli insegnanti no. Gli insegnanti no. Un po' per motivi, ovviamente, legati alla situazione delle nostre risorse pubbliche. Un po' per, comunque, l'innalzamento della popolazione media. L'insegnante medio di scuola primaria secondaria è lui, analfabeto digitale. Quindi come si può pretendere che sia veicolo di alfabetizzazione verso i più piccoli. E di nuovo che vengano instradati a un uso intelligente di internet. Cioè che internet non è solo contattare gli amici su Facebook con gli strumenti come iPad. Si può imparare meglio la matematica, si può apprendere più la storia, eccetera. Questa dimensione dell'apprendimento elettronico tipica delle culture ormai radicate nella cultura inglese, nella cultura americana, nella cultura scandinava, che io vedo tutti i giorni quando mi confronto in queste realtà, è assolutamente lontana, anni luce, dalla scuola italiana. Ecco, quindi questa questione è una questione di trasformazione, non è una questione di innovazione. E scusate se insisto su questo punto, perché l'aspetto di trasformazione nelle priorità che sono state messe appunto dalla prima cabina di regia, mi sembra ancora un po' stentato. E forse anche perché è l'aspetto più complicato. Passando alla questione dell'internet è utile e quindi devo accedere. Ecco, qui c'è l'altro punto della segnalazione dell'autorità che io credo ancora non sia stato compreso fino in fondo. Perché un conto è dire, bene, allora a questo punto si fa l'agenda digitale, che bello, la cabina di regia, eccetera. Un altro punto è dire, attenzione, ma questi sono diritti dei cittadini. Ecco, e su questo io credo che sia molto importante il ruolo che svolgerà il Parlamento. Quindi io saluto veramente con favore il fatto che il Parlamento è molto sensibile sul tema dell'agenda digitale, ci sono dei progetti di legge e credo che il ruolo di stimolo del Parlamento sia fondamentale sul tema dei diritti. Allora, la segnalazione dell'autorità è stata questa. Se un servizio sostanzialmente è disponibile in maniera digitale, quindi col canale digitale, col canale tradizionale, averlo nella maniera digitale è un diritto del cittadino. Vi spiego in maniera concreta che cosa significa. Beh, per esempio che io posso pagare il bollettino online, ma lo posso pagare al costo, scusate, non a 3 euro, a 4 euro, a prezzi che non hanno nulla a che vedere col costo reale, diciamo, dell'operazione di transazione elettronica. Se, e di nuovo questo lo diceva anche Parisi nel convegno di Confindustria, se un cittadino costa di più pagare il bollettino online che andava apposta, voglio dire, è questo il modo di invogliare i cittadini ad adottare internet. Questa cosa vale anche per l'onbanking. Come voi sapete, l'onbanking è qualcosa che si paga a parte nei conti correnti. È un servizio, le banche più innovative, ti regaliamo l'onbanking. Ma questo è un diritto del cittadino, è un diritto di avere attivo il canale digitale. Allora, questa questione non costa, diciamo, risorse pubbliche, costa, diciamo, un'ingegnerizzazione delle norme in una maniera tale per cui il cittadino abbia il diritto di utilizzare il canale digitale. Il canale digitale ha gli stessi costi, beh, dovrebbero essere più bassi, ma quantomeno gli stessi costi e le stesse opportunità che gli dà il canale tradizionale. A questo punto vedrete che tutto cambia, perché l'onbanking, come sapete, in Italia non è molto diffuso. Non vi do i numeri di nuovo, perché cosennò ci cittadino. Perché? Il professor Decina, che è più coraggioso di me, magari o almeno è professore, io rappresento un'istituzione, non posso forse spingermi a dare tutte le risposte. Ma, diciamo, forse ha anche a che fare col fatto che il sistema, diciamo, retail delle nostre banche è un sistema piuttosto articolato, complesso, farraginoso, eccetera. E quindi viene fuori quello che si chiama, in termini tecnici, il conflitto di canale, fra canale tradizionale e canale online. Un'altra norma che la Gcom ha proposto al governo è di colpire il conflitto di canale, cioè mettere una norma del Codice Civile che dice qualunque clausola che impedisce a un fornitore di servizi o di beni di vendere online è nulla. Questo, per esempio, è un problema che troviamo spesso nella microimpresa, nella impresa artigianale. L'artigiano normalmente ha i suoi canali di distribuzione, a cui si lega mani e piedi con contratti, diciamo, alle volte che gli impediscono qualunque operazione di vendita online. E lui a questo punto, anche se c'ha magari l'amico che gli dice guarda che puoi fare commercio elettronico, puoi aprirti in sito, ti aiuto io, lui non può farlo. Non può farlo perché è legato a un sistema di distribuzione tradizionale che peraltro lo vincola contrattualmente. Quindi il diritto di vendere online si esplica anche in una norma che eviti il conflitto di canale, fra il canale online e il canale distributivo tradizionale. Il conflitto di canale è una questione molto complessa, studiata nelle teorie di management per quanto riguarda le aziende grandi, perché ovviamente fra chi vende online, chi vende in maniera tradizionale, come equilibrare, eccetera. Il conflitto di canale si crea anche nella micro impresa, ma a quel punto si crea spesso i distributori terzi che hanno una forza contrattuale molto più forte del piccolo imprenditore. Allora, in questo di nuovo non servono risorse, diciamo, gigantesche da parte dello Stato, serve probabilmente una riflessione sulle norme che si possono mettere in campo a favore del canale digitale. Un'altra questione, sempre sul piano normativo, riguarda la disciplina dell'IVA. È una cosa complicatissima, io ci ho messo parecchio tempo e non ho capito tutto, però voglio dire, semplificando un po' la cosa, la disciplina dell'IVA online è una disciplina europea, che quindi fa capo a 3-4 direttive europee molto complicate. Però vi dico qual è il punto di caduta, che le imprese tedesche venderanno in Italia con l'IVA al tedesca, quindi al 20%, le imprese italiane al 21, 22 è quello che sarà. Questo è il portato dell'applicazione della direttiva europea. E quindi? Ebbè, quindi io credo che sulla vendita online il Governo deve fare una riflessione su qual è il regime di IVA applicabile, perché le nostre imprese si troveranno in una situazione di svantaggio. E poi, quando il prodotto è un prodotto totalmente elettronico, beh, insomma, parlare di un'IVA agevolata non mi sembra una cosa dell'altro mondo. A parte che credo che sia più un vantaggio, facendo un po' i calcoli, che uno svantaggio per le casse dello Stato. Ma per esempio, per la vendita degli e-book, per la vendita del software, per la vendita di tutti i prodotti dematerializzati, dove non si crea discriminazione fra canale tradizionale e canale online, l'IVA agevolata è un'opzione che può essere considerata. Per tutte le altre vendite tradizionali, sicuramente evitiamo che le imprese italiane si trovino a dove applicare un'IVA molto più alta delle imprese europee. Quindi questo è un tema che comunque va affrontato, se non si vuole deprimere ulteriormente il commercio elettronico. Un'altra questione che riguarda sempre le questioni normative e tutte le questioni legate alla sanità elettronica. Ci sono stati dei progressi, però il punto di partenza della sanità elettronica è la disponibilità dei dati elettronici. A questo punto si deve passare da ciascuna azienda sanitaria locale ha la facoltà di provare, a sperimentare, eccetera, a il punto in cui si dice si passa, si fa lo switch off, si passa al sistema elettronico. Ovviamente ci sono alcuni temi sensibili, delicati, come prima fra tutti la tutela della pravese, eccetera, che però possono essere affrontati. Sono stati affrontati negli Stati Uniti, sono stati affrontati in Scandinavia, non vedo perché l'Italia non sia in grado di affrontarli. Del resto ha una cultura giuridica e una civiltà giuridica, consentite di dirmi, superiore forse a quella di altri Stati in termini di tutela della sfera dei dati personali. Per cui, voglio dire, partiamo da una posizione sicuramente diversa di quella che è la situazione negli Stati Uniti. Da questa posizione non credo che ci sia un problema a cercare un po' di semplificare le norme, cercare di aggivolare e per poter arrivare a un percorso praticabile per la cartella elettronica. Prima che passo a un argomento abbastanza oggi sulle pagine del giornale, lo spetto radio, un'altra cosa che mi fa un po' pensare insieme all'home banking è la moneta elettronica. Allora, l'Italia è il paese dei cellulari. È il paese dei cellulari. Quale altro paese sarebbe in grado di essere all'avanguardia per quanto riguarda la moneta elettronica? Ecco, perché l'Italia è così dietro nei ragionamenti sulla moneta elettronica? Ecco, io questo lo lascio a chi vorrà intervenire dopo. Un'idea ce l'ho. Però, ecco, questo non aiuta. Allora, se si vuole fare veramente un'agenda digitale è seria, allora si dice, bene, facciamo un ragionamento piuttosto, diciamo, finalizzato sugli standard, dotiamo le aziende che forniscono servizi pubblici di post di tipo, appunto, contactless, come si dice, che appoggio il cellulare e posso pagare, facciamo in modo che chiunque offra un servizio al pubblico vada in quella direzione là. E di nuovo, non servono cifre, diciamo, investimenti pubblici, servono norme, servono agilazione, servono, diciamo, serve un impulso normativo che vada in quella direzione. Ecco qua. Passando un po' ai temi che sono un po' più vicini alla nostra autorità e vicini a me, diciamo, come responsabilità europee, quello che abbiamo segnalato è la necessità che l'Italia si doti di un programma di politica dello spettro radio. Il tema dello spettro rapido troppe volte in Italia è stato poi il terreno di scontro anche ideologico di pensieri diversi, di questioni diverse, questioni che attengono all'assetto del mondo televisivo, questioni, diciamo, importanti nel microcosmo italiano, viste, diciamo, dall'Europa, viste dal mondo, questioni che si comprendono di meno, perché l'Italia non si sia dotata, diciamo, di un programma di politica dello spettro radio. Le politiche dello spettro radio non sono cose che si fanno con una norma in 30 secondi o in un anno, sono cose che un Paese imposta e ci vogliono anni perché si vedono i benefici. Il primo tentativo di fare una cosa ordinata sullo spettro radio in questo Paese risale al 2005 con l'idea del catastro dei frequenze, la prima delibera e la prima decisione poi del Ministero sulla digitalizzazione della Sardegna. Ecco, quella lì è stata la prima volta che in Italia si è cominciato a parlare seriamente di reti a singola frequenza, di ordine nello spettro radio, si parla soprattutto del televisivo dove ovviamente è lì che si è concentrato di più la diversità fra l'Italia e il resto d'Europa. Ecco, quelle politiche là, quel semino piantato lì in Sardegna, quanti anni ci sono voluti prima che portasse adesso l'Italia alla possibilità di usare le reti in singola frequenza? Ci sono voluti 7 anni, 7-8 anni. E adesso siamo il primo Paese d'Europa come utilizzo delle reti a singola frequenza. E forse, e forse, dico, riusciremo, abbiamo fatto addirittura un miracolo che è stato il primo dividendo digitale a 800 mega che senza le reti a singola frequenza non avremmo mai potuto fare. Noi, diciamo, diamo al televisivo un numero di multiplex che gli altri Paesi sgranano gli occhi, io manco glielo dico più perché tanto non mi credono, voglio dire quanto dire. La Francia ha 11-12 multiplex complessivi. Questo non è, diciamo, una medaglia che si mette alla Francia perché per esempio ha compresso tante delle realtà locali. Come sapete il dibattito in Francia è piuttosto vivace sul fatto che il sistema francese non sia sufficientemente pluralistico. Quindi, e perché? Perché la Francia, permettendo di dire, ha sbagliato la pianificazione delle frequenze. Ha ceduto a interessi un po' di parte, spinte varie e ha abbandonato l'idea di usare le singole frequenze. Quindi non sempre, non copriamoci sempre, flageliamoci. La scelta della singola frequenza è stata una scelta giusta, ma una scelta pervicace che è cominciata nel 2005 e che poi è stata portata avanti. Immaginate se poi dopo un anno avessimo di nuovo cambiato idea, poi cambiato idea un'altra volta e cambiato idea un'altra volta. Per fare un cambiamento di questo genere ci vogliono anni. Ecco, allora, questo cambiamento ha portato a un primo grande risultato. L'Italia, a sorpresa, è riuscita a mettersi in testa ai Paesi che possono utilizzare le frequenze 800 per le telecomunicazioni, almeno a parole. Speriamo che poi vengano liberate le frequenze. Quindi a parole siamo... Quindi almeno quando, diciamo, come Presidente del gruppo Spettro Radio faccio l'appello dei Paesi virtuosi, per ora ci metto l'Italia, speriamo diciamo che questo poi si concretizzerà. Eh, eh, vediamo adesso. Oh, parlando adesso di quello che è il futuro, eh beh, sicuramente quello che è avvenuto a Ginevra a febbraio è un cambiamento abbastanza importante nell'assetto Spettro Radio. Perché per la prima volta si è deciso a livello mondiale un'allocazione per le frequenze 4G, per le frequenze da ultra, banda ultra H, che sono le frequenze 700 MHz. Questo è una cosa molto importante perché, visto dalla prospettiva di un costruttore, per la prima volta, fra un po' di tempo, si troverà di fronte alla possibilità di poter vendere gli stessi apparati in tutto il mondo, praticamente in tutto il mondo, con la stessa banda di frequenze. Chi di voi ha seguito un po' le polemiche sul nuovo iPad 3, una delle polemiche, diciamo, più grosse che è scoppiata in Australia, ma in quasi tutte le parti del mondo, dice, ah, ma questi dicono che è 4G, ma in realtà non funziona. Perché l'iPad 3, come forse, funziona in America. Ecco, quando l'Europa renderà disponibile 700 MHz, come l'Africa, come l'Asia, eccetera, a quel punto questi dispositivi funzioneranno in tutto il mondo. Quindi è certo che i costruttori possono fare dispositivi multifrequenze, ma costano di più. Quindi l'allocazione mondiale del 700 MHz è un passo decisivo verso l'utilizzo della banda larga. Come al solito, queste cose vengono anche in maniera abbastanza bizzarra, nel senso che la posizione comune europea era molto più mite, molto più, diciamo, attendista. Dopodiché improvvisamente è venuta fuori una risoluzione dei paesi africani e, diciamo, tanti dei miei colleghi europei la conoscevano a memoria. E quindi, voglio dire, forse hanno un po' aiutato la scrittura. Quindi comunque l'Europa si è trovata di fronte a questa bella novità. Io, come Presidente del gruppo dello Spettro Radio, la metterò all'ordine del giorno della prossima riunione primaria di giugno e da quel momento in poi si parlerà seriamente in Europa di come l'Europa, diciamo, si avvicinerà al 700 MHz. Ieri il Governo ha approvato la presentazione di un emendamento che indubbiamente è all'avanguardia in Europa sotto questo profilo. Tranne la Svezia e qualcosa che ha annunciato l'Inghilterra, non ci sono altri paesi che sono così avanzati a questo punto in termini di riflessione su questo tema. E questo è un segnale sicuramente positivo. Quello che però ovviamente ha l'Italia che non hanno gli altri paesi è un uso talmente intenso della banda che pure qui ci vorrà una politica di lungo periodo. Non è che domani è disponibile questa banda. Questo è possibile in Svezia. Il digitale terrestre in Svezia è il 2-3% della popolazione. Stessa cosa vale per la Germania, in Austria è l'8%. In Italia parliamo del 70% della popolazione. Quindi la possibilità di arrivare a questo traguardo è una possibilità che passa necessariamente attraverso un breakthrough tecnologico. Ed è lì l'altra novità importante che per la prima volta si affaccia in Europa con la legge italiana, con la proposta del Governo che è la promozione dello standard nuovo DVB-T2 e della compressione MP4. Questa in prospettiva specialmente combinata con le redi a singola frequenza permette un raddoppio o addirittura triplicare l'efficienza di banda. E quindi questa è veramente la carta della speranza per riuscire a riorganizzare lo spettro in tempi non biblici. E di nuovo però a questo punto ci vuole coerenza, ci vuole una certa consistenza nel fare questo tipo di politica virtuoso. Quindi sicuramente questi sono segnali molto positivi. Positivo è anche il fatto che il Governo si sia preoccupato della valorizzazione dello spettro radio, perché lo spettro radio è una risorsa scarsa, non è che si può così. Ma valorizzazione, guardate, non significa solo, anche se in un momento di crisi ovviamente è la prima cosa che viene in mente a tutti, quello di riuscire a ottenere una giusta rimunerazione economica allo spettro. Ma valorizzazione significa anche concorrenza, pluralismo. Quindi comunque dare valore allo spettro radio. Purtroppo non esistono ricette magiche. La ricetta migliore normalmente è che sia il mercato un pochino a valorizzare lo spettro radio. E quindi pure in questo senso c'è un segnale positivo. Ora tutto questo ovviamente è anche positivo che poi si voglia che sia l'autorità di garanzia a occuparsi di questo, perché poi comunque è bene che i governi, quando si tratta poi di politica della regolazione dello spettro, facciano un passo indietro e siano poi l'autorità di settore in maniera armonica in Europa a occuparsi del tema. Ovviamente sempre nel rispetto delle istituzioni nazionali. Ecco, quindi questo è sicuramente un passo avanti. Adesso vedremo però poi i dettagli dell'emendamento, perché non sono ancora noti. Mi avvio alla conclusione, se riesco, me l'hanno fatta troppo avanzata sta roba. Vabbè, l'ultima slide ve la racconto. Comunque è quella dei servizi. Beh, professore, ma tu sai sempre tutto. L'ultima slide riguarda un po' le smart cities, smart grid, smart tutto. Ecco, allora in questo io devo dire, l'Italia si pone avanti per quanto riguarda le smart grid. C'è una bella riflessione, anche perché l'Italia, essendo un paese che dipende dal petrolio, chi più dell'Italia ha un interesse a fare una riflessione seria sull'utilizzo del smart grid per ridurre la bolletta nazionale. E devo dire che il tipo di risparmio che si può ottenere tramite la gestione intelligente del consumo elettrico è impressionante. Si parla, stime confiduse, di 10 miliardi di euro per quanto riguarda l'utilizzo intelligente del consumo dell'energia elettrica. Io in questo, di nuovo, devo dare atto che il Parlamento si è occupato del tema, se ne è occupata la nostra autorità cugina. In parte, diciamo, il Governo sta cominciando a comprendere l'importanza di questo tema. Credo che anche su questo tema sia molto importante, coordinamento e soprattutto cercare di focalizzare l'azione. L'ultimo tema dei servizi che mi piaceva, diciamo, un po' sottolineare è quello del telelavoro. Noi ci troviamo di fronte a un piccolo dramma, purtroppo un grande dramma. Siamo costretti a allungare la vita media del lavoratore per questioni di equilibrio e di bilancio e al tempo stesso vogliamo dare spazio ai giovani. Ecco, lo strumento della flessibilizzazione del lavoro passa anche attraverso il telelavoro. Il telelavoro riduce gli spazi, l'occupazione degli spazi, riduce i costi, aumenta la qualità della vita delle persone. Io penso che le nostre norme in materia di lavoro, soprattutto in materia di lavoro pubblico, possono e devono tener conto delle innovazioni che il telelavoro permette. Ecco, permettetemi di concludere dicendo questo. Quelle che l'autorità ha dato sono delle idee, ovviamente adesso aspetta il governo un po' mettere insieme. Io penso che sia finito un po' il tempo della competizione sulle idee, di mettersi in mostra. Io penso che sia il tempo che bisogna un po' arrotolarsi le maniche e lavorare insieme. Quindi l'autorità non fa parte della cabina di regia, questo lo confermo. E questo non credo che sia una buona cosa. Penso sia una svista e spero quindi, noi siamo disponibili a collaborare, come abbiamo fatto in questi anni col Parlamento, così siamo disponibili a fare col governo e spero appunto che il governo ci voglia consultare. Noi siamo qui a disposizione. Grazie.